Presentato questa mattina dal Presidente D'Alfonso, il Rettore D'Amico e il Direttore dell'Istituto Zoo Profilattico Caporale di Teramo, Petrut è un nuovo organismo che unisce due eccellenze del territorio teramano e che si pone come riferimento nell'alta formazione e nella ricerca. Io sono molto soddisfatto di quello che ho trovato e voglio anche rivelare che ho candidato come persona giuridica, non come persona fisica, lo zoo profilattico come uno dei tre bersagli strategici della nuova programmazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e sono convinto che avremo buone notizie per quanto riguarda il potenziamento, il completamento dei laboratori che poi fanno l'eccellenza di questa importante infrastruttura scientifica. Presidente, sarà D'Amico? Allora, D'Amico è un benefattore che ogni volta che abbiamo bisogno di lui ci dice sempre di sì, per adesso sta completando questo grande lavoro nella società giacimento dei trasporti. Poi mi aspetto anche un livello elevatissimo di collaborazione tra Università nella persona di Luciano D'Amico e lo zoo profilattico che ha anche nella sua autonomia una grande capacità di funzionamento, però portare a coniugazione Università con le sue specializzazioni zoo profilattico mi sembra che sia ciò che nella normalità la comunità si attende e noi lo faremo. Oggi la parte rilevante del finanziamento alla ricerca la si ottiene solo in questo modo e per poter concorrere con successo è necessario non solo essere bravi e l'Istituto e il Polo Agrobio Veterinario dell'Università hanno dimostrato ampiamente di essere ben in grado di raggiungere ottimi risultati, ma occorre avere anche una dimensione critica perché la credibilità scientifica necessaria per acquisire le risorse è una credibilità che deriva anche dalla credibilità della struttura oltre che dall'autorevolezza dei singoli ricercatori. Unire due enti come l'Istituto Profilattico e l'Università è un momento molto importante perché vuol dire mettere insieme risorse finalizzate alla ricerca, la ricerca naturalmente negli ambiti di competenza, sulle malattie trasmissibili, sulla sicurezza alimentare. Il governatore D'Alfonso infine alla domanda su chi sarà il presidente della nuova azienda unica dei trasporti pubblici ha risposto così. D'Amico ha fatto un grande lavoro, noi gli chiederemo non solo di rimanere ma di insediarsi come senatore a vita. D'Amico ha fatto un grande lavoro, noi gli chiederemo non solo di rimanere ma di insediarsi come senatore a vita.